Decisamente ci sono giovani e giovani, accanto a quelli, e per fortuna non sono pochi, i quali dimostrano intelligenza, voglia di fare, una visione del futuro estremamente interessante e stimolante, ce ne sono tanti altri e sono forse l'elemento peggiore, forse peggio degli anziani che se ne stanno seduti ormai sulla banchina del parco, godendosi magari quei quattro appartamenti che sono riusciti ad acquistarsi in questi anni, non avendo nessuna altra visione che il proprio egoismo, dicevo ci sono tanti altri giovani i quali sono nati imparati, sono gli stupidi della gioventù italiana, quelli che credono nel fatto di essere giovani, di essere già arrivati, questi batteranno delle testate tremende nella loro vita, comunque è un problema loro, io sto dalla parte invece dei molti, ma davvero molti altri giovani che vedo intelligenti, vedo colti, vedo preparati e con la voglia di prepararsi ancora, che non si sentono affatto nati imparati, mi somigliano molto, nonostante la mia non verde età, io faccio parte di quella squadra e faccio parte di quelli che non si sono mai sentiti imparati, non se la sono mai tirata, però consentitemi, so tante cose e do una certa professionalità. domanda 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 Grazie.